Fare la spesa per le famiglie costa di più con l'inflazione alle stelle ma anche per i titolari delle attività si tratta di un vero e proprio salasso e le materie prime costano di più anche per loro. All'Aquila titolari dei bar per un po' hanno resistito mantenendo il caffè a un euro ma ormai quasi tutti si sono allineati con il caffè che costa un euro e dieci o un euro e venticentesimi. Il problema è rappresentato anche dall'aumento di altri prodotti come la margarina per i prodotti di pasticceria e succhi di frutta, il pane per gli aperitivi, salmone, salumi ma anche la carne. Insomma per i titolari delle attività fare la spesa sta diventando un problema. Lei a quanto vende il caffè? A un euro e dieci. L'aumento lo ha fatto ultimamente? Sì perché praticamente da gennaio a ora è aumentato di 5 euro al chilo. Ecco per quanto riguarda invece altri prodotti voi ovviamente fate la spesa come la famiglia per le vostre attività, che aumenti ci sono? Ci può fare qualche esempio? E quelli che gravano di più su di voi? Sì, anche la pasticceria ha aumentato la margarina, ha aumentato la farina, quindi l'olio di semi ha aumentato, quindi ci stanno parecchi aumenti. Noi con l'approvvigionamento abbiamo dei prodotti che hanno dei prezzi altalenanti, sia per la guerra sia per il caro spedizione o benzina, tipo il caffè, le farine, la carne. Se è pure straniera, tipo Argentina, abbiamo dei aumenti anche del 25-30% all'approvvigionamento. Il pollo, i cornetti, i dolciumi, ogni cosa ha un aumento del 10-15-20% che è altalenante perché alcuni mesi è un po' più basso, alcuni mesi è ancora un po' più alto. Anche le verdure, le frutte, i pomodori è un po' un casino, quindi dobbiamo allineare i nostri prezzi al pubblico quasi mensilmente. Ecco, per esempio il caffè voi a quanto lo vendete? Guarda, noi il caffè lo vendiamo ancora un euro, proprio perché vogliamo che rimanga una cosa italiana, il caffè è un euro. Però per voi è aumentato? È aumentato tantissimo, è aumentato più del 10%, adesso facciamo l'estate e poi allineiamo i prezzi del caffè con gli altri. A questo va aggiunto il caro energia. Le bollette aumentate in maniera vertiginosa, nonostante tutto i bar aquilani e le attività stanno cercando di mantenere prezzi appetibili per i clienti. Di certo la guerra, condizionato non poco per settembre e gli scenari, non si prevedono rosei.